Siamo tornati, siamo tornati ragazzuoli, siamo tornati a smanettare un po' su GT7, Gran Turismo 7 PS5 Cosa facciamo di bello oggi? Volevo usare la Supra, volevo usare la Supra, attenzione, attenzione La usiamo così com'è, così vediamo un po' la situazione, era proprio questa che volevo fare Questa è di 5 giri, si vincono 75.000 azioni, usiamo la Supra, vediamo, con le corsa dure ci sta Prima volta che guido la Supra, questa faceva parte del pacchetto ragazzi, è un'auto leggendaria Auto leggendaria Si torna con le auto, con le auto toste dai La Supra è sempre la Supra Anche a qua dobbiamo tirare, eh, riuscire a vincerela questa Consumo carburante pure, eh, consumo gomme Torniamo con le vecchie piste di Gran Turismo, porco tu Guarda questo come mi sta spingendo, guarda Tu figlio di E in chi come tira L'abitolo mi sa che portano gomme un po' più morbide no sto sbagliando un po' anche se ho migliorato però ho sbagliato un botto non so se siano le gomme o sono partito di merda io non so che sono partito di merda io sto facendo sorpassare praticamente da tutti sono anche girato la riproviamo la riproviamo è partito malissimo gomme dure non è facile sto lì dietro ma ci riproviamo ma perché sbaglio sempre qui dai su dai ho la curva più facile cocane quanto tempo perdo qui mannaccia anche un altro pure si è inculato dietro qua diciamo che rallentano un po' quelli davanti bella bello stacco qui ah se non sbagliassi quella cazzo di curva lì porco cane parto a giro mannaccia dio mannaccia la velocità mannaccia che peccato di nuovo stavo beccando a questi due stavo beccando pure la macchina frena bene sta curva va di lusso ma sta scicando settima settima posizione ma com'è possibile la corsa media e la rifacciamo prendiamo ora la corsa media ma com'è possibile la corsa media dai dai non c'è in settima gomme medie fanno il loro lavoro vedi questo come sta buttando fuori vediamo se li becchiamo stavolta stavolta niente 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 come voglio freno non va non va sta curva tutto cazzo devo frenare a sta curva mannaccia ma che è la prima volta mannaccia questo tempo devo perdere io mannaccia li avevo beccati a questo con quella madonna di curva che palle poi video sorpasso 1 si è andata ad ammazzare ho capito male mamma mia come mi fa la Lamborghini mamma mia come mi fa la Lamborghini vai vai questo come cazzo mi è arrivato cioè ci stiamo arrivando tutti in pratica stanno rallentando là davanti no 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 mi fai perdere tempo cacco bastardo chi è questo come sta andando oh si è svegliato ma ma girre sopra ottimo giro porco cane oh ma ancora ne avete di gomme sto tenendo testa però con la supra la supra vecchia anzi mi sa che stanno rallentando abbastanza anche queste le gomme non ci ne avete quasi più vero? eh pure io buona mia come mi sono avvicinato mi sono avvicinato tanto attenzione si 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 lo posso fare sto sorpasso si lo possiamo fare c'è la Viper che è tosta e veloce la Viper è veloce vai per non la becco più eh non vi buttate a sorpasso vi prego state là na ciao per di nuovo tempo stopirla forse no questa è una bella gara dai questa è stata una bella gara seconda posizione la Viper era molto più veloce quanto pare beh comunque sta di fatto che parto ultimo pure non è che parto uno degli ultimi eeeh niente ci ho spinto ci ho spinto dai qui ho spinto abbastanza bella questa è stata bella eeeh